A Conselbe una settimana fa qualcuno aveva cercato di dare fuoco al presepe in piazza e solo il pronto intervento di un cliente del bar che si trova nei pressi aveva consentito di spegnere le fiamme. Ora, dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri della compagnia di Avano hanno rintracciato e denunciato il presunto autore del gesto. Si tratta di un 45enne del posto che però non ha saputo dare una spiegazione a ciò che ha fatto.